Alcuni dei laboratori di tensioni sono già partiti, adesso il festival parte in maniera ufficiale. È un programma ricco di eventi per questi due giorni con tematiche molto varie. Sì, sono più di 30 artisti che per questi due giorni occuperanno gli spazi di censere e fabbrica dello zucchero. Quindi un bel calendario ricco di incontri, spettacoli, laboratori per passare due giorni all'insegna della cultura. Sono diversi anche proprio i modi in cui avete deciso di approcciare gli argomenti? Assolutamente sì, la maggior parte degli spettacoli sono spettacoli multidisciplinari che utilizzano le nuove tecnologie per comunicare in maniera diversa. e sono affiancati invece da degli approfondimenti di carattere invece più scientifico, più specifico, sulle tematiche della contemporaneità, le tematiche che abbiamo voluto in qualche modo indagare. Ogni festival si fa con l'intento di esplorare un argomento. Voi cosa volete esplorare? Beh, si chiama geografia delle relazioni, quindi quelle che stiamo esplorando sono le relazioni interpersonali ma anche le macro-relazioni, quelle che muovono l'economia, quelle che muovono i mondi in qualche modo. Questa è un'iniziativa a livello culturale molto interessante che la nostra fondazione ha inteso premiare con un contributo importante, innanzitutto perché si svolge qui nell'ambito del CENSER che è un immobile, un complesso estremamente adatto a queste iniziative. Oggi è un vero laboratorio di idee e noi abbiamo voluto che anche le iniziative culturali siano comprese in questo sviluppo delle idee che deve essere CENSER. Voi sapete che qui ci sono attività imprenditoriali, c'è l'università, ci sono laboratori di ricerca, quindi è un luogo nel quale queste iniziative si sviluppano. Poi, venendo più specificatamente alla fabbrica dello zucchero, è un'associazione che ha tutti i requisiti, a nostro giudizio, per essere premiata, perché oggi la nostra fondazione, per tutta una serie di ragioni che sono un po' anche complicate, tende a cambiare il tipo di contributo che viene elagito, non più a pioggia ma sempre molto più specifico, legato a specifici progetti, iniziative come questa che per la città di Origo sono molto importanti per lo sviluppo culturale del nostro ambiente e per la formazione dei giovani. Io devo ringraziare gli organizzatori di TENSIONI a partire dalla fabbrica dello zucchero e tutti quelli che lavorano perché hanno veramente fatto una cosa pregevole. Io credo che Rovigo sia bello avere un'iniziativa alla ricerca delle sensibilità del contemporaneo e credo che l'abbiano questo colto a pieno. Se posso, come assessorato, avere da una parte un teatro di tradizione che ragiona su come aggiornare il concetto di tradizione con spettacoli e dall'altra veramente una vivacità del territorio con una ricerca attenta del contemporaneo e dell'innovazione come mi sembra sia questo Festival TENSIONI è veramente una ricchezza che come Rodigini dobbiamo goderci e da promuovere in giro. Grazie mille. No, grazie a voi. Grazie mille. Grazie mille.